La Lombardia è la prima regione in Italia per numero di somministrazioni giornaliere di vaccini anti-covid, ma la campagna procede con ritmi differenti a seconda della provincia. L'Ecco, ad esempio, è quella che ha somministrato la prima dose a una percentuale maggiore di persone, e cioè l'85,87%. Seguono Lodi, Cremona, Sondrio e Monza-Brianza, dove oltre l'83% della popolazione target ha ricevuto la prima dose. Como ancora metà classifica delle 12 province, avendo vaccinato l'82,96% dei cittadini. Fanalino di Coda Pavia, che supera di poco il 78%. Nel Comasco, sempre in base alla popolazione target, i comuni che hanno distribuito più vaccini sono Brenna, Longone, Alsegrino e Opilio, mentre Val Rezzo rimane in fondo alla lista. Su una popolazione di 132 cittadini, solo 85 hanno ricevuto la prima dose e 57 hanno completato il ciclo. A Como, invece, la prima iniezione anticovida ha raggiunto 60.524 cittadini e il richiamo 50.468.